Stavolta i numeri dovrebbero essere esatti, ma nel report siciliano sui contagi da coronavirus alcune cifre mancano ancora. Un'avvertenza nelle tabelle recita, in data odierna non è stato possibile rilevare il dato dei tamponi con test antigenico, dunque non si ha il numero dei tamponi rapidi. Dopo il primo giorno senza bollettino ed il secondo giorno con i dati sbagliati, ieri la Sicilia torna nona tra le regioni italiane con un numero di nuovi casi. Da 10.305 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore sono emersi 1.282 nuovi positivi. Il tasso di contagio e il rapporto tra i nuovi casi e i tamponi sale al 12,4%. I decessi sono stati 19, ieri 21 riferiti ai due giorni. Due dati certo preoccupanti. I ricoverati sono 1.039, 8 in più di ieri. I posti occupati in terapia intensiva salgono da 104 a 143 con 6 nuovi ingressi. I guariti sono stati 82 e così gli attualmente positivi sono 19.870, 1.181 in più del giorno prima. In isolamento ci sono 18.831 persone. E intanto è stata riaperta la piattaforma delle prenotazioni dei vaccini per gli over 80, la fascia 70-79 anni, il personale della scuola e i soggetti fragili, anche in vista delle nuove consegne di vaccini appena fatte. Proprio in queste ore il Corriere Espresso di Poste sta finendo le consegne del vaccino Moderna. Le dosi, pari a 36.300, sono destinate alle farmacie ospedaliere dell'isola. Saranno utilizzate come prima dose dai medici curanti per le somministrazioni a domicilio.